Noi di ScuolaZo abbiamo deciso di trovare il lato positivo del rientro a scuola, momento d'inizio di un rapporto non sempre pacifico. Abbiamo quindi chiesto agli studenti italiani in cosa, secondo loro, la scuola li ha migliorati. Allora, la scuola mi ha sicuramente reso più curioso, più responsabile, più maturo e mi ha fatto crescere in generale. Credo che la cosa più significativa sia stata darmi la possibilità di andare all'estero. La scuola mi ha fatto migliorare dal punto di vista organizzativo, ma soprattutto mi ha fatto trovare passioni e talenti che io non pensavo di avere. Ho imparato che se abbiamo degli obiettivi e dei sogni, la scuola è il mezzo giusto che ci può aiutare a raggiungerli. Nei periodi che ho trascorso in Germania, Irlanda e Spagna ho migliorato le mie competenze linguistiche, sono entrata a contatto con altre culture e soprattutto ho imparato a cavarmela da sola in ambienti e situazioni nuove. Il mio percorso scolastico ha formato il mio pensiero e il mio modo di ragionare. La scuola mi ha migliorato un sacco nell'ambito personale, nel controllare le emozioni. La scuola in un futuro mi darà la possibilità di scegliere il mio lavoro e non di accontentarmi di quello che verrà proposto. Quello che ci insegnano sembra una cagata, ma in realtà serve davvero, perché conoscere è la cosa fondamentale. Visto? La scuola non è solo verifiche e compiti a casa, c'è tanto altro da vivere e da scoprire. Godetevi quest'anno al meglio che potete, studentelli, ne varrà la pena.